Attenti al vaccino Johnson, la copertura di questo tipo di siero è minima, come dimostrano i numerosi casi registrati anche a Salerno, di ragazzi con il Green Pass tornati infetti da vacanze in villaggi e strutture turistiche in cui è stato improbabile il rispetto delle regole, soprattutto in regioni come l'Emilia Romagna, la zona tra Rimini e Riccione in particolare, in cui non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Per fortuna la copertura vaccinale garantisce ai ragazzi di non avere conseguenze gravi, ma fa crescere il numero di positivi in un territorio in cui mancano solo 30.000 dosi per immunizzare completamente 690.000 salernitani. L'AS di Salerno punta a raggiungere l'immunità di Greggia a settembre, quando sarà superata probabilmente la soia del 75%. In base alle scorte di vaccino, che arriveranno in numero più consistente dalla metà del mese, si organizzeranno quindi Open Day nel distretto sanitario 70, Vallo della Lucania, Agropoli. Giovedì 5 e venerdì 6 agosto verranno somministrate le prime dose di Pfizer, circa 500 e convocati al giorno. In totale le inoculazioni in provincia di Salerno sono state 1.270.000, il 18,21% dei 6.684.000 complessivamente somministrati in Campania, che è seconda in Italia, preceduta solo dalla Lombardia, con oltre 12 milioni di somministrazione in Regione, quest'ultima con una popolazione di poco superiore a quella della Campania, ma che ha ricevuto ad oggi il doppio delle dosi.